Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti. Siamo a presentare un pacchetto di proposte del Partito Democratico a sostegno del potere d'acquisto delle famiglie, che sono in difficoltà. Sappiamo gli anni da cui veniamo, tra crisi pandemica, conseguenze della guerra, crisi energetica, carovita, oggi anche gli effetti dell'inflazione e del rialzo dei tassi. Quindi riteniamo urgente intervenire a sostegno del potere d'acquisto delle famiglie contro il carovita. Leggevo che il Ministro Urso ha affermato che attende da un anno le nostre proposte. Mi costringe a ricordare una volta ancora al Governo e a Giorgia Meloni che al Governo ci sono loro, siamo noi che da un anno aspettiamo delle iniziative del Governo che sostengano le famiglie che non ce la fanno più a pagare il mutuo, con i salari troppo bassi. Ho incontrato giusto un paio di giorni fa in aeroporto un lavoratore che mi ha detto che non riesce più a pagare il mutuo e ha cinque figli. Sappiamo che ci sono stati dei, sono più che raddoppiati i mutui ed è una situazione che riguarda milioni di famiglie questa. Ecco, quindi stiamo aspettando ancora l'iniziativa di un Governo che dopo un anno non si è ancora reso conto di essere al Governo. Le nostre iniziative coprono un ventaglio di punti critici. Ringrazio da subito Antonio Misiani, responsabile sull'economia e la finanza, Annalisa Corrado, responsabile sulla conversione ecologica alla Green Economy. Dovrebbe essere collegata, e ringrazio molto anche lei, Simona Malpezzi, che ha presentato una PDL che l'altro giorno qui, insieme a Irene Manzi, responsabile scuola del PD, abbiamo già raccontato. Oggi abbiamo la diretta protagonista che ci racconta che cosa, su cosa interviene. Ma per dare i titoli, anzitutto non dimentichiamo i video in cui Giorgia Meloni prometteva di tagliare le accise che invece sono aumentate. Il prezzo della benzina l'anno scorso era in questo periodo a 1,6, adesso è a 2, in autostrada si trova anche 2,5. Questa è la situazione delle tante promesse elettorali tradite da questo Governo. Siccome questo produce un extra gettito IVA per le casse dello Stato, che possiamo stimare in oltre 2 miliardi, qui proponiamo che immediatamente un miliardo venga messo a sostegno delle fasce economicamente più fragili e l'altro a sostegno del trasporto pubblico locale. Sapete che il bonus trasporti è stato ridotto nella sua portata e si è esaurito in mezza giornata sostanzialmente, quindi bisogna sostenere con maggiori risorse quella strada. Abbiamo poi delle proposte che riguardano la casa, la difficoltà a pagare l'affitto e quindi la deindicizzazione dell'affitto. Abbiamo delle proposte che riguardano il bonus sociale luce e gas, così come Annalisa ci racconterà perché chiediamo la proroga del mercato di maggior tutela su luce e gas. E infine appunto Simona Malpezzi ci potrà raccontare il senso di questa nostra proposta che vuole garantire gratuità nell'accesso all'istruzione pubblica. Il diritto alla scuola è un diritto fondamentale, è un diritto costituzionale per il Partito Democratico, la scuola pubblica è il primo grande luogo di emancipazione sociale ma per essere tale bisogna sostenere le famiglie che hanno avuto una doccia fredda al rientro a scuola perché devono contare le matite che costano il 40% in più, devono contare i quaderni che costano il 70% in più e noi crediamo invece che bisogna sostenere le famiglie nel garantire il diritto allo studio e quindi sull'acquisto dei libri di testo, sull'accesso alle messe scolastiche, sull'accesso al trasporto pubblico locale senza dimenticare che il Partito Democratico non si limita a fare delle proposte ma dove governa le rende realtà che migliorano la vita delle persone e ringrazio quelle regioni, quei territori dove governiamo, dove questo sforzo si sta facendo. Mi viene in mente proprio Regione Emilia Romagna dove in questi anni si è fatto un forte investimento sul trasporto pubblico locale gratuito per le studentesse e gli studenti fino a una certa soglia ISEE quindi rivolta anzitutto alle fasce più fragili. Questo produce un risparmio per le famiglie di circa 600 euro all'anno ma al contempo anche abitua, introduce una mobilità altra e sostenibile quindi insomma sono tutti obiettivi che crediamo bisogna perseguire con forza in questo momento nella totale assenza e indifferenza del Governo che in quest'anno a parte i proclami, a parte l'accanimento contro i poveri non ha saputo dare risposte nemmeno a quella parte di cedo medio che si è fortemente impoverito per effetto delle crisi economica e delle conseguenze della guerra. Grazie, do subito la parola per illustrare più nel dettaglio le misure ad Antonio Misiani. Mi scuso se io a un certo punto dovrò assentarmi perché a mezzogiorno si vota in aula ed è una votazione molto importante perché finalmente a pieno titolo il diritto allo sport entra in Costituzione. Grazie a un forte lavoro anche del Partito Democratico e soprattutto del primo firmatario di questa proposta che è il nostro Mauro Berruto. Grazie. Grazie Ellie. Allora molto molto rapidamente tra la fine del 2021 e la metà del 2023 l'indice dei prezzi al consumo è salito del 13%. Questa impennata dell'inflazione che non registravamo dalla metà degli anni 80 ha ridotto drammaticamente il potere d'acquisto. Più 13% in un anno e mezzo più 4% di aumento delle retribuzioni nello stesso periodo. Ed è un'inflazione che ha allargato le disuguaglianze. Istat calcola la inflazione per quintili di reddito. Il 20% più povero delle famiglie ha avuto un aumento dei prezzi del 15,9. Il 20% più benestante dell'11,6. Sempre nello stesso periodo di tempo. Quindi è un'inflazione che non solo ha ridotto il potere d'acquisto in generale ma anche ha allargato le disuguaglianze del Paese. Che cosa ha fatto il Governo Meloni di fronte a questa fiammata inflazionistica? Da una parte ha ridotto progressivamente gli aiuti contro il caro energia, hanno rimosso il taglio delle accise deciso da Draghi a fine 2022 e hanno progressivamente ridimensionato gli aiuti contro il caro energia. Dall'altro il Governo ha fatto del populismo economico i cui limiti stanno emergendo anche in queste ore. Ha fatto del populismo economico sui carburanti. Hanno varato a gennaio un decreto trasparenza che doveva risolvere i problemi e non ha risolto un ben nulla. A febbraio Salvini ha promesso che se la benzina avesse superato i due euro avrebbero tagliato le accise e in questi giorni, lo dicono i dati del Ministero di Urso, la benzina ha superato i due euro ma non si parla più di questo tipo di intervento. Hanno fatto del populismo economico sugli extraprofitti dove hanno sparato alto e poi hanno nettamente ridimensionato l'intervento impauriti dalla reazione dei mercati, con una misura peraltro scritta molto male. Hanno fatto del populismo economico sul caro voli, caro voli ancora una volta indicando un problema ma scrivendo malissimo le norme e oggi fanno retromarcia clamorosamente con un emendamento al decreto in discussione e temiamo che anche il trimestre tricolore annunciato in Pombamagna dal Ministro Urso alla fine si riveli tanto fumo ma ben poco arrosto perché l'impegno di contenimento dei prezzi è su base strettamente volontaria, viene lasciata la discrezionalità dei produttori e quindi questo accordo che replica con molti mesi di ritardo un accordo fatto in Francia temiamo che non produca risultati significativi per le famiglie che vanno a fare la spesa. Noi oggi offriamo al Governo un contributo con cinque proposte estremamente concrete, sono proposte quasi tutte di carattere congiunturale per affrontare quella che è un'emergenza che speriamo venga riassorbita ma che oggi crea enormi problemi alle famiglie che devono fare la spesa, pagare le bollette e sostenere un costo della vita fortemente cresciuto con redditi che purtroppo sono stagnanti, queste proposte congiunturali si affiancano alle proposte strutturali che abbiamo avanzato nelle scorse settimane, una tra tutte è il salario minimo ma le proposte per le politiche per la casa strutturali, le proposte su energie e ambiente, quindi questo è un pacchetto congiunturale a fianco naturalmente continueremo a portare avanti le nostre proposte strutturali. Quali sono queste cinque proposte? Poi sul sito troverete una nota stampa di dettaglio. La prima lo ricordava Ellie, c'è un extragettito molto significativo, la stima di oltre due miliardi era legata alla fascia esodo contro esodo, in realtà visto che i prezzi sono ulteriormente cresciuti e rimangono alti è probabile che l'extragettito sia persino superiore ai due miliardi, ma noi prendiamo questo pacchetto di risorse e chiediamo al Governo di ridistribuirlo sul trasporto pubblico locale innanzitutto, 200 milioni di euro per il bonus trasporti introdotto dal Governo Draghi su proposta del Ministro Orlando e ridimensionato dal Governo Meloni, quando in realtà c'è una domanda altissima, il primo settembre hanno riaperto il bando e in un'ora l'hanno chiuso perché le risorse non erano sufficienti, trasporto pubblico come rifinanziamento del Fondo Nazionale Trasporti, il primo miliardo di euro, il secondo miliardo di euro, un contributo carburante, una tantum, 200 euro per 5 milioni di persone proprietari di autoveicoli, ma con un meccanismo ad hoc, sentiamo che il Governo vuole fare un provvedimento simile mettendo sul piatto 100 milioni di euro, una cifra francamente ridicola, rispetto agli extracosti che stanno pagando gli automobilisti italiani e oltretutto lo vuole fare caricandolo sulla carta sociale dedicata a te, che nasce con finalità completamente diversi, ha una platea che non si incrocia con gli obiettivi di un contributo carburante, secondo noi serve un intervento forte e ad hoc se vogliamo dare realmente una mano a quella quota di famiglia, reddito basso e reddito medio che stanno soffrendo particolarmente il caro carburanti. Secondo punto, gli affitti, un quinto delle famiglie italiane, 5 milioni di famiglie vivono in affitto, il 32% di questi 5 milioni di famiglie era già nel 2021 in difficoltà, perché pagava, sosteneva costi per la casa impiegando per quei costi più del 40% del loro reddito. Immaginiamoci cos'è successo nel 2022-2023 con un meccanismo di indicizzazione che, per chi non ha la cedolare secca, ha replicato l'andamento dell'inflazione. Noi proponiamo di congelare l'indicizzazione degli affitti fino a tutto il 2024, finché l'inflazione non sarà rientrata sotto il tasso di riferimento della BCE, cioè sotto il 2%. Congelare l'indicizzazione degli affitti per aiutare concretamente milioni di famiglie che erano già con l'acqua alla gola prima e lo sono ancora di più con la fiammata inflazionistica che è esplosa nel 2022-2023. Terzo punto, il bonus sociale luce e gas. A fine settembre scade il potenziamento deciso dal governo Draghi e prorogato dal governo Meloni, ma la crisi energetica non è finita. Poi Annalisa Corrado darà dei dati impressionanti per quanto riguarda le reali condizioni del mercato italiano luce e gas. Noi chiediamo che il bonus potenziato fino a 15.000 euro di ISEE venga prorogato fino a tutto il 2024. È un intervento selettivo che aiuta le famiglie più in condizione di difficoltà, quelle in condizione di povertà energetica per la luce e per il gas. Non sono cifre enormi, ma prorogarlo fino a fine 2024 permetterebbe di dare una certezza e una sicurezza a famiglie che invece rischiano di andare immediatamente in grande difficoltà. Annalisa parlerà nel dettaglio del tema della maggior tutela, Simona Malpezzi, credo che sia collegata anche Irene Manzi, parleranno del tema caroscuola, carocosti legati alla scuola, su cui Malpezzi e al Senato e l'onorevole Manzi e alla Camera hanno presentato delle proposte di legge ad hoc, come ricordava la segretaria Schlein. Darei la parola ad Annalisa per illustrare nel dettaglio una delle proposte più forti che riguarda il regime di maggior tutela. Ok, meglio accendere il microfono. Buongiorno a tutte e tutti. Allora, sì, come dicevano sia la segretaria che Antonio Misiani, queste nostre proposte vengono assieme a quelle più strutturali che stiamo facendo dall'inizio, ossia il vero modo di tagliare veramente le bollette e tagliare anche i costi dei prodotti in questo momento, è quello di fare delle azioni strutturali che riguardano la transizione energetica, la conversione ecologica e anche l'economia circolare, che è il vero modo anche di ridurre i costi delle materie prime, della gestione degli scarti e ridare competitività al nostro comparto industriale. Quindi quando noi insistiamo sulla transizione energetica, insistiamo anche su una nostra maggiore indipendenza come paese e una nostra maggiore indipendenza da mercati molto volatili che non controlliamo minimamente e che quindi poi influiscono così negativamente sulle dinamiche dei prezzi che arrivano in cascata ai comparti industriali, alle PMI e ai consumatori. In questa fase ci concentriamo soprattutto sui consumatori perché siamo estremamente preoccupati che questa dinamica del mercato libero dell'energia possa ricadere come ulteriore fonte di dispendio economico insopportabile in queste condizioni date di partenza se si esce dal mercato tutelato in una fase così instabile e con così poche certezze anche sulla generazione di questi valori per cui noi abbiamo già chiesto in Parlamento con interrogazioni parlamentari e question time chiarezza. Questa chiarezza non è ancora arrivata quindi alcune delle dinamiche che illustrerò non è chiaro da cosa derivino e a nostro avviso in queste condizioni togliere lo strumento di tutela dell'acquirente unico e del mercato tutelato a oltre 10 milioni di utenti su un mercato che è davvero complesso e complicato come quello dell'energia e quindi con una serie di venditori anche molto variegata che offrono condizioni molto diverse su cui le persone fanno fatica ad orientarsi e a comprendere realmente cosa comporti un contratto rispetto all'altro ecco secondo noi in questo momento è davvero pericoloso uscire da questa tutela. Tra l'altro in assenza di condizioni strutturali chiare, trasparenti, verificabili rischia di propagarsi proprio quel capitalismo di rapina di cui ha parlato il presidente Mattarella che invece ha richiamato all'importanza dell'economia civile quella che distribuisce il benessere e non lo concentra solo nelle mani di pochi a discapito dei molti. Ecco per applicare quell'economia civile, per promuovere l'economia civile occorre che le regole siano chiare e la trasparenza è il primo degli elementi che serve per costruire delle regole chiare strutturali e poi per studiarne le dinamiche in maniera efficace. Allora innanzitutto anche l'agenzia europea Acer dei regolatori ha identificato una problematica nel rientro dei costi dell'energia soprattutto per il comparto retail in Italia e in altri paesi più che in altri e non è chiaro quale sia la dinamica di questa difficoltà di rientro nel post crisi perché i prezzi stanno calando e non si capisce perché questa cosa non arrivi in cascata fino ai consumatori. Dopodiché c'è un fenomeno di concentrazione sui venditori del mercato che è l'antitesi di un mercato libero concorrenziale maturo, quindi che significa che pochi operatori concentrano sempre più clienti sul mercato libero e questo ovviamente non è una dinamica che anche dalla Commissione europea viene considerata come sana e quindi che può portare ad un mercato libero più di tutela perché concorrenziale. Un altro tema molto importante è quello di cui parlava anche Antonio Misiani prima è che in tutto il 2023 come anche in gran parte degli anni precedenti i contratti sul mercato libero sono stati ampiamente superiori a quelli del mercato tutelato fino a doppi, cioè chi è sul mercato tutelato ha pagato bollette doppie, scusate, sul mercato libero ha pagato bollette doppie rispetto a chi è sul mercato tutelato e quindi a nostro avviso come sistema di protezione dei consumatori mentre si chiariscono le dinamiche che hanno consentito questo tipo di uscita dal controllo diciamo, quindi è importante che venga prorogato il sistema di tutela in modo che tutte queste dinamiche vengano chiarite e vengano messe in atto quei meccanismi strutturali che non consentano nessun tipo di proliferazione dei meccanismi di speculazione. Quindi insomma ci vorrà un lavoro per cui noi siamo pronti a dare il nostro contributo anche dal punto di vista tecnico perché è chiaro che la vicenda è molto complicata e che prevede anche tutta una serie di modifiche necessarie per accogliere la transizione energetica che certamente è una cosa complicata anche perché interverranno le nuove dinamiche sui mercati degli accumuli, insomma ci sono tante cose che stanno cambiando e non possiamo permetterci che il cambiamento ricada sui consumatori in senso negativo proprio perché noi diciamo sempre che la transizione energetica è innanzitutto un grande piano contro le diseguaglianze e non può essere il contrario. L'ultimo punto è quello che noi abbiamo in questo paese un processo di diversificazione della fonte gas soprattutto, cosa che abbiamo contestato perché noi vorremmo anche spingere molto di più e con molta più determinazione sull'immaginare il phase out anche a medio e lungo termine ovviamente e quindi spingere molto di più sui rinnovabili, sull'efficienza energetica, sull'elettrificazione dei consumi. Quello che sta facendo il governo invece è spingere molto su questa diversificazione ma nella fase di diversificazione la volatilità dei mercati e quindi la riduzione della parte di gas che entra in Italia con contratti fissi e pluriennali è molto più alta e questo significa essere agganciati a mercati spot che sono più volatili e che quindi espongono a maggior ragione gli utenti a un mercato fuori controllo. E questo secondo noi non può accadere in particolare in un momento così delicato per il nostro paese, in un momento in cui il potere d'acquisto dei cittadini è così ridotto e quindi insomma noi chiediamo la proroga della tutela in modo da poter organizzare tutto il sistema in maniera più positiva appunto proprio in quella direzione di un'economia civile, una redistribuzione del valore che chiedeva anche il Presidente Mattarella. Simona Irene Ecco vedo Simona Malpezzi collegata Sì grazie, un saluto a tutti, grazie per questa occasione e ci tengo a dire che l'illustrazione che ha fatto Antonio, la premessa che ha fatto la nostra segretaria non nascono ora da questo momento il disegno di legge che riguarda il sostegno al caro scuola in realtà è un disegno di legge di inizio legislatura che noi abbiamo trasformato mano a mano in emendamenti a tutti i provvedimenti di spesa come a dire il Partito Democratico ha sempre provato a dare una risposta e questo governo come diceva prima bene la segretaria è invece rimasto surdo senza accogliere nessuno di questi suggerimenti salvo poi settimana scorsa ascoltare le parole del Ministro Valditara che si accorge che i libri sono cari. Noi abbiamo fatto tre proposte in questa direzione poi magari Irene le illustrerà nel dettaglio ci tenevo però a sottolineare come sono tre proposte costruite con chi si occupa del tema a partire da chi già da tempo segnala che essendo la scuola dell'obbligo almeno per l'obbligo scolastico i costi dovrebbero essere coperti perché non possono essere a spesa delle famiglie se andate a chiedere oggi ad una famiglia che ha magari due figli uno che inizia il primo anno della scuola secondaria di primo grado cioè delle scuole medie o un anno e un altro primo anno delle scuole superiori si trova una spesa come minimo di 700 euro e oggettivamente non è accettabile quindi benvenuto settembre con questi questi costi noi chiediamo che venga rimpinguato quel fondo che c'è già c'è già dal 1998 ma che poi le regioni non riescono a far funzionare perché a seconda della loro buona o cattiva volontà o volontà di inserirci più risorse questo fondo viene messo o meno a disposizione delle famiglie noi proponiamo anche il comodato d'uso che in alcune regioni funziona ma per questo garantiamo un sostegno che venga dallo stato fin dall'inizio l'altro aspetto importante lo ha precisato prima Antonio Misiani è quello dei trasporti anche qui in moltissimi paesi d'europa il trasporto scolastico è gratuito e noi lo chiediamo almeno per la scuola dell'obbligo quindi rimpinguiamo quel fondo e garantiamo ai nostri bambini ai nostri ragazzi alle nostre ragazze di poter andare a scuola senza che questo sia un costo per le famiglie segnalo sono lombarda che per quanto riguarda il trasporto regionale è aumentato e quindi questo è un caro ulteriore l'ultimo tema e qui chiederei al governo di rispondere anche a una nostra interrogazione Irene lo sa siamo rimasti senza risposta e sulla child guarantee che aveva messo al centro anche il diritto alla mensa come livello essenziale delle prestazioni spesso quel momento che è un momento educativo e quindi non basta dire vadano a casa e si mangino un panino e poi tornino a scuola è tempo scuola quello della mensa scolastica e spesso è l'unico momento in cui le bambine e i bambini hanno un pasto caldo e un pasto sano cioè equilibrato anche in questo caso noi chiediamo che diventi un diritto essenziale e pertanto gratuito è una battaglia importante questa garantita anche appunto dall'europa che con la child guarantee la messa al centro in italia questa si è bloccata portando anche alle dimissioni di Anna Serafini che lo spiegava anche l'altro giorno in un'altra iniziativa organizzata sempre dal partito democratico da Irene Manzi e c'era la nostra segretaria Ellie Schlein sui nidi chiediamo che da lì si riparta ma che intanto si corra ai ripari mentre si sta discutendo l'autonomia differenziata vorremmo anche chiedere al ministro Calderoli come pensa nell'autonomia differenziata di garantire quel passo a tutte le bambine e i bambini d'Italia grazie grazie Simona non so se Irene è collegata, Irene Manzi eccola intanto salutiamo Ellie non ti sentiamo però Irene eccomi mi sentite? sì adesso sì sono collegata e voglio solo aggiungere poche parole a quello che già Simona ha introdotto in maniera puntuale ed efficace, c'è un tema da un lato di sostegno e di vicinanza forte alle famiglie rispetto proprio all'avvio dell'anno scolastico rispetto a dei diritti essenziali che debbono essere riconosciuti alle famiglie ma ancor più ai bambini, alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze c'è un tema di grande giustizia sociale che emerge dalle proposte che abbiamo presentato in questo caso a quei tre punti che riguardano appunto la gratuità dei libri di testo per coloro che frequentano la scuola dell'obbligo il tema della gratuità delle menze e del servizio essenziale, del livello essenziale che deve essere riconosciuto il tema dei trasporti. Pochi giorni fa avrete visto le immagini della protesta vivace della rete degli studenti medi, degli studenti davanti al ministero dell'istruzione con un lungo scontrino che denunciava appunto il costo che si lega non solo ai libri di testo ma anche ai trasporti per esempio. Noi vogliamo sollecitare il governo a prendere degli impegni precisi, già non solo nella prossima legge di bilancio ma ad esempio già nella mozione che su questi temi abbiamo presentato e che sarà discussa proprio alla Camera la prossima settimana contiene degli impegni precisi proprio intorno a quei punti chiave che Simona ha annunciato che fanno parte del nostro programma così ben illustrato da Antonio. Ecco, aspettiamo il governo in questo caso su questo, sulla risposta aspettiamo delle risposte soprattutto perché non basta appunto riconoscere genericamente come il ministro Valditar ha fatto pochi giorni fa che c'è un problema. A questo punto bisogna mettere in campo gli strumenti e le risorse ancora di più per affrontare quel problema e soprattutto per far sì che quelli che sono esempi virtuosi che ci sono anche in regioni italiane su questo tema non restino solo degli esempi isolati ma ci sia effettivamente un'omogeneizzazione nell'assicurare questo tipo di servizi e questo tipo di misure su scala nazionale quindi implementando quelli che sono gli impegni e le risorse in questo caso assicurate dallo Stato. Quindi siamo molto convinti di questo e ci auguriamo che il governo faccia seguire negli annunci è molto bravo devo dire ma agli annunci faccia seguire i fatti e noi con le nostre proposte cerchiamo appunto di spostare quello che è il tema del confronto dai semplici annunci alle misure concrete a sostegno delle famiglie. Bene grazie Irene, grazie Simona, grazie Annalisa abbiamo concluso il pacchetto di proposte delle 5 proposte del Partito Democratico contro il Carovita sarà a momenti disponibile online sul sito del Partito Democratico nazionale. Grazie a tutte e tutti. Grazie a 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 tutti.